In tutta Italia è corsa alle mascherine. Gli esperti concordano sulla necessità di indossare i dispositivi di protezione per i soggetti infetti. Sulla loro utilità per le persone sane, la risposta non è unanime. C'è grande dibattito per quel che riguarda anche la comunità scientifica, perché è un argomento sul quale non esistono evidenze fortissime. Il virus, come noto, si trasmette soprattutto attraverso le goccioline di saliva che emettiamo tossendo o starnutendo i cosiddetti droplets. Questa tv giapponese, in sinergia con esperti, ha fatto questa verifica sfruttando la tecnologia digitale. Utilizzando una telecamera ad alta sensibilità ha osservato il loro comportamento. Se le goccioline più pesanti cadono rapidamente, le più piccole, mostrano le immagini, galleggiano a lungo nell'aria. Ad oggi non ci sono certezze su quale concentrazione di particelle così piccole possa portare al contagio. In spazi aperti o ben areati, il pericolo, concordano gli scienziati, è probabilmente limitato. È più alto il rischio per gli ambienti chiusi in cui le persone rimangono a lungo. Aprire spesso le finestre è una misura utile e consigliata. La RAI è al fianco della protezione.